Attenzione, contenuti altamente ignoranti. Questo video potrebbe urtare la vostra sensibilità. Le acrobazie, i gesti atletici e le cadute sono effettuate da stuntman professionisti, non provate ad imitarli. In questo episodio... ENDURO DRINKING TEAM, VERY IGNORANT PEOPLE. INDULISTI E LO SBARAGLIO Ragazzi, guardate quanta brutta gente c'è in un unico posto. E comunque poteva andarci molto peggio perché non c'è Angelo. Oh, tutta la famiglia di Paletta è venuta a salutare. Hai visto che roba? Insieme. Good morning Vietnam! Giappa, che roba! Mi piace! Mi piace! Mincazio! Questa è bella eh! Com'è con le gummine? Com'è! Mole! È la vendetta! Mincazio è il sapone. Porco dio! Ahahahah! Mi piace! Pioppa! Porca la puttana! Mi sono bagnato tutto. La pauta! Vai con la pauta! Dai Marco! Bacchigas! Inca le carrene da festa Nooo! André! Sempre peggio! Pesso non neanche! Pesso si migliora! E guardate che si migliora! Col cazzo che passate! L'amaparde! Lui c'ha l'amaparde! Eccolo! 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 Se li facciamo salire qui! Diciamo che abbiamo sbagliato strada! Prossimo! Eccolo dopo lui ora! Vieni con la gomma nuova! Guarda qua! Prossimo! Grazie! 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 Marco che zappa! Non bisogna capirci per vai giù! Eccolo! 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 Che cazzo! Eccolo! Reggio! Puungete! Phi che cazzo! Gasse! Cazzo! Dakarisipera! no 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 per me per me faccio ma stai ma buono ma atta oh we don't know how i can make it without you i get more lost every day with Valle 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 guarda lo guarda lo oh 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 ragazzi ma qua siamo arrivati a dei livelli beceri proprio cioè a parte le uova di miti che sono accompagnate da un paninazzo e va bene ma arriva anche la salsiccia ma quale salsiccia ma guardate che cazzo di piatto ha preso lei facciamo un saluto ad angelino vorrei solo farvi notare che tra tutti i dominator qual è l'unica moto che ha problemi un ktm c'è un ugolo di persone qui attorno a sta moto forse avete bisogno di un aiutino mirko ti vedo un po' tremolante bravo un po' di coraggio l'ho perso tutto nelle salite di prima miti non te ne andare no lo zio miti appena andato via miti miti guarda sei appena andato via e inizia il divertimento miti è andato via da tre minuti e ci ha mandato alla maledizione alleee guarda sei una mano e noi eroe è un mio amico vai marco dai dai che ti sei vale come vieni via vale vale quasi quasi vale sei un blocco di mei Usciti dall'incubo, il primo degli incubi, il primo dei tanti incubi, guarda quando dicono che gli anguristi non fanno pulizia nelle montagne, guarda, guarda qua, non è veramente un filo sinistra. Allai! oh ma chi che sribula lì tranquilli che dopo migliora in questa puntata renard fuma la gomma nuova è andata vieni dagliene ma renard fuma e tu la seconda no 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 in teoria qua è tutta a discesa poi dovrebbe migliorare 5.44 campaggiù sono passato per miracolo io vi vai che dopo migliora allora se riesce a passare di qua è meglio però poi se non vuoi dire niente agli altri va bene solo il meglio per voi solo il meglio eh questa è divertente dai che è arrivata l'autostrada sei proprio qui porto dio ultimo taglietto dai non so il cazzo sei così da poter dire qua qua è tutto lì vai 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 se stai chiede anche in piedi Ok Porca noia Comunque ora posso dire che ho portato solo la foto del capo Sì c'è un giro ancora lungo Più indietro è più aggressivo Vai 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 Bravo 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 Grande Grande Vai 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 quanto è fuori Oh porco Dio Renni Renni non hai bisogno di una mano Renni Vuoi che il Gabba ti aiuta? Oh Il Gabba aiuta Renni Eccoci ragazzi Siamo arrivati A definizione Sani e salvi Di qua ci abbiamo Sani e salvi L'appartamento con due balconi Con vista Gab Due bagni E un'altra camera da letto sotto Vincita spettacolo Tanta roba Ci abbiamo qua i balconi pieni Completi di roba da asciugare Ma se dovessimo non esserci domani mattina E morire Il motivo è questo Vedete un filo Che passa sopra il cesso Che va in una doccia piena d'acqua Per asciugare questa roba qua Guardami ti Abbiamo il vino L'abbiamo mangiato E avanza proprio la tua Chi è che si sacrifica? Chi è che si sacrifica? Mirko Dai tu che sei suo amico Sacrificati Soprattutto Tu ti rendi conto Di quel che stai combinando È arrivato quasi a livello di Angelo Che ha fatto finta di rompere la moto Per non venire stasera Sì sì Ha tirato via una carena Non si sa bene cosa è successo Ragazzi Buona serata E Angelo Angelo Soca Dobbiamo assaggiarli tutti Mi raccomando Poi lì facciamo sapere Qual è più buono Dai salutiamo un attimo Miti Siamo arrivati agli amari Gio Dove sei Gio Ci hanno portato un sacco di amari Da assaggiare E senza di te Non ce la facciamo assaggiarli tutti Ah no cazzata Vai prendere gli altri Vai Raga ma come facciamo A dare mito con un grizzly Di fiume Di fiume Di fiume russa Non dimenticate di mettere like Ed iscrivervi al canale Grazie a tutti Andze Giocanze Grazie a tutti.